Buongiorno a tutti, finalmente è arrivato il nuovo aggiornamento di Topografo 2020 e abbiamo ricevuto un'email in cui è possibile scaricare questo aggiornamento. Ora, tra le novità di Topografo, dell'ultima versione, è stata introdotta l'aggiunta di un nuovo modulo, che è il modulo E. Chi ha ricevuto questa email, in particolar modo, avrà la possibilità gratuitamente di attivare sia il modulo M, che aveva già a disposizione, anche il modulo E, che prevede tutta una serie di funzionalità relative alla gestione delle nuvole di punti. Vediamo insieme, seguendo i vari passaggi indicati dall'email, come poter quindi attivare questo aggiornamento. Allora, la prima cosa che viene richiesta è quella di andare a disattivare la licenza della versione di Topografo in corso. Quindi, avviamo Topografo. Andiamo nel menu Help, ok, menu Help, e clicchiamo su Disattiva licenza. Questa procedura permetterà quindi di disattivare la licenza di Topografo. Confermiamo, sì. Automaticamente il programma si chiuderà. A questo punto dobbiamo procedere nello scaricare il setup di installazione della nuova versione. Ovviamente c'è la possibilità di scaricarlo per la versione di Windows a 32 bit o a 64 bit. Io scaricherò quella qui, quindi appunto, a 64 bit. Il download parte in automatico e sarà scaricato, a seconda poi del browser, in basso a sinistra con Chrome. In alto, a destra invece, troveremo la freccia di download per chi usitizza Firefox. Per quanto riguarda, oltre a dover scaricare appunto il setup di installazione dell'aggiornamento, sarà necessario anche scaricare la file di licenza. I file di licenza li troveremo sempre allegati alla nostra email. Eccolo qui. Quindi cliccando possiamo scaricarci anche la licenza di Topografo. A questo punto avviamo il setup di installazione scaricato. Accettiamo l'installazione, creiamo un'icona sul desktop e clicchiamo su Installa. A fine installazione clicchiamo su Fine. Doppio clic sull'icona quindi di Topografo. Vedremo che appunto il programma non è più abilitato come prima. Andiamo sul menu Help. Clicchiamo su Attiva licenza. E selezioniamo la licenza scaricata dalla nostra email. Andiamo su Apri. E automaticamente tutti i nostri moduli di licenza che abbiamo acquistato saranno riattivati, compreso anche il modulo E. aspetta, Per US$. Grazie.